A me la parola insomma, io chiedo il benvenuto, ringrazio il benvenuto in Capitaneria, ringrazio la Lega Navale di aver scelto questa location, la Capitaneria di Porto, per questo evento, segno di assoluta condivisione di iniziative, di modo di pensare, di modo di vederla sul mare, sull'ambiente marino, sulla necessità di tutelarlo, sugli sport, sulla valorizzazione degli sport, in sostanza un concetto sulla cultura del mare, quindi direi che è una condivisione totale, quindi grazie Presidente per avermi dato l'opportunità di ospitare questo momento qui in Capitaneria. Saluto la Mirale Pezzutti che c'è onore della sua presenza oggi in qualità di allievo, ma insomma io non oso definirla tale, di maestro in più o in più, grazie della sua presenza, saluto i colleghi ammirati che anche ci onorano della loro presenza e darei assolutamente la parola al Presidente Balestrero per introdurre il pomeriggio. Saluto, ecco scusate che vi ho dimenticato, saluto i ragazzi dei campi giovani e stili. Vi prego di alzarvi, sono i ragazzi che trascorrono con noi qualche giorno e hanno voluto essere qui presenti stasera per toccare con mano anche un pochettino ciò che non si amare, cosa che tutti noi guardiamo a volte con un po' di timore, ma poi invece diciamo va guardato con rispetto, ovviamente il mare sempre, che si navidi e che si vada sott'acqua, ma assolutamente con amore e con passione, quindi vi consiglio di avvicinarvi a questo tipo di attività con curiosità, prudenza e assolutamente affidandovi a dei professionisti del settore come sono gli amici più presenti oggi. Grazie, grazie, grazie a me. Sono io che ringrazio la Capitaneria Guardia Costiera e il Comandante Seno, confermando la grande sinergia che vi è tra le attività della Capitaneria di Porto e tutti noi appassionati degli sport del mare, dalla vela che è la mia passione principale e ora questa nuova scoperta magnifica che abbiamo avuto grazie soprattutto all'ammiraglio Chionna che tutti conoscete e anche la spinta data dal nostro consigliere ammiraglio Traisoli e abbiamo fatto una serie di corsi, corsi di apertura e corsi sperfezionati, ma di divento molto alto e quindi diciamo è un'attività che ci fa, che ci rende, ci fa molto onore e che tra l'altro annuncia finora che avremo un'ulteriore sinergia con la lega navale di Verici che anche lei vuole dedicarsi a questo bel gioco dei sub, soprattutto io lo vedo molto interessante per il fatto che grazie all'ammiraglio si fanno dei corsi di perfezionamento, dei corsi diciamo veramente di grosso impegno direi per i casi di sopravvivenza eccetera, quindi sono veramente contento di questa iniziativa e diciamo di continuare anche spero che il mio successore la continuerà perché come molti di voi sapranno a novembre io ho chiuso la mia quarantennale attività di prevedere gravare. Vorrei anche dare un saluto a mio amore ai ragazzi così gentili che hanno aspettato tanto, poverini, augurando anche a loro di amare il mare e tutte le cose del mare e però concludo questo mio velocissimo incremento dando in maniera simbolica tre tessere della lega navale. La prima al più giovane di quelli che hanno fatto il corso a Gianmarco Bamonte la seconda a Carlo Cianti e la terza a Massimo Seno che bella sorpresa. E adesso passo la parola al nostro formidabile direttore del corso ammiraglio Francesco Chionda che farà una breve sintesi dell'attività svolta e poi daremo il diploma. Bene, allora intanto grazie Presidente per l'organizzazione di questa serata che io aspettavo da tempo per vari motivi intanto perché è bello avere tutti quanti insieme non ci si riesce facilmente poi perché sarà l'occasione per dare dei brevetti alcuni molto sudati per varie ragioni. Intanto presento Carlo Cianti che il Presidente ha voluto iscrivere nella sezione di spezia della lega navale è l'autore del filmato che sta per partire, che abbiamo già visto qualche mese fa alla Camera di Commercio Carlo è un carissimo amico, un grande subacqueo, un grande video operatore subacqueo di livello non solo... Passiamo un po' le luci? Sì, sì, assolutamente sì, così ci godiamo il filmato mentre io parlo sperando di non... Carlo è un, diciamo, oltre all'istruttore subacqueo, un eccellente operatore subacqueo che mi onora dalla sua amicizia e che fa parte del gruppo sub che ormai compie oggi il suo primo compleanno perché è un anno che l'attività del gruppo sub della lega navale di Spezia è cominciata. Un anno abbastanza intenso dove con, e così faccio anche una veloce relazione ai consiglieri presenti che si aspettano, so da me, questa relazione diciamo di fine del primo anno di attività. Abbiamo svolto quattro corsi, due basici e due avanzati e abbiamo brevettato una quindicina di subacquei e tutto sommato sulla piazza di Spezia per essere il primo anno non è male. Le attività del gruppo non sono state solo quelle di corsi sub ma abbiamo appunto fatto qualche mese fa una manifestazione con proiezione di alcuni video, questo è uno in occasione dell'obiettivo blu, come vi ricorderete. In quella circostanza ha parlato anche un altro mio carissimo amico fotografo subacqueo che recentemente campione del mondo di fotografia subacquea. Quindi insomma intorno al gruppo sub si sta, malgrado sia giovani, si sta consolidando tutta una serie di attività. Le prospettive per il futuro secondo me sono estremamente buone per via di un'ulteriore possibilità che ci siamo voluti offrire grazie alla lungimiranza del Presidente Ballestrero ma anche il Presidente Moglia della sezione di Lerici che entrambi avendo questo spirito di voler allargare gli orizzonti delle rispettive sezioni hanno pensato di avere una sezione sub sotto la propria presidenza e hanno ulteriormente deciso di unire gli sforzi per avere un prodotto di alto livello. Manca in questa riunione ma sta arrivando un altro elemento fondamentale per questo sviluppo ulteriore che è già in corso anche se deve essere formalizzato e credo che poi andrà a regime da fine estate ma è già in corso grazie a Daniele Ibani che appartiene alla Lerici Sub, appartiene alla sezione di Lerici della Lega Navale e istruttore subacchio anche lui, eccellente subacchio anche lui, ha contribuito con ogni sforzo con molto impegno per la buona riuscita di questi corsi, soprattutto quelli di questa stagione. Quando arriverà gli chiederò di tributargli un applauso perché solo merita tutto. Io non ho altro da aggiungere se non che siamo arrivati alla fine di un corso basico che brevetta 7 persone e anche questo assicuro che facendo corsi da tanti anni non è assolutamente comune avere un numero di allievi così alto e con oggi, con una magnifica immersione fatta proprio oggi insieme all'ammiraglio Pezzuti, altro grande amico che si è avvicinato al mondo della subacquea per vari motivi, intanto per impegni di lavoro, ma poi per piacere personale anche un po' in competizione con le figliole, anche loro allieve subacquee anche se presso un'agenzia didattica di Roma e col quale oggi abbiamo concluso veramente molto bene il corso Advanced, abbiamo fatto un'immersione spettacolare a largo dello scoglio ferrale sul relito dell'Egua, questo per dire che abbiamo immersioni, siti di immersione molto molto belli anche dalle nostre parti. Concludo solo prima di chiedere al Presidente di consegnare i diplomi e i brevetti, ormai non si chiamano più allievi, ormai sono subacquei a tutti gli effetti però concludo ringraziando la Capitaneria di Porto, il Comandante Seno, non solo per la sua ospitalità qua stasera e giustamente diceva non poteva esserci un posto migliore dove fare questa manifestazione perché la condivisione di valori, di ideali e di linee guida deve essere assolutamente la stessa tra chi va per mare per divertirsi, come facciamo noi subacquei, come dico sempre noi subacquei della Domenica che non vuol dire subacquei sproveduti ma vuol dire subacquei che vanno a divertirsi e la Capitaneria che ci consente di farlo in tutte le maniere sempre con estrema sicurezza e sentendosi sempre accuditi, coccolati e supportati, non per nulla e credo giusto dirlo quando con l'ammiraglio Resoli abbiamo cominciato a lavorare intorno a questo progetto qualche dubbio sulle possibilità o comunque su come organizzare come anche dal punto di vista formale, statutario il gruppo ci è venuto e li abbiamo risolto grazie ai consigli e al supporto degli ufficiali del dipendente dal comandante seco. Io non vorrei aggiungere altro, se no vado per le lunghe chiederei al Presidente di cominciare a consegnare i diplomi, comincerei dagli open water. Allora, Carlo Gianotti, il decano del corso Alessandro Banchi, il primo Paola Riva Matteo Giannone Giuliano Gioviale Per una bella soddisfazione veramente, Gianmarco Bamonte Poi abbiamo, non è presente perché in vacanza col papà, la figlia del comandante in seconda della capitaneria, Alessia Cirillo Allora quale è giusto? Lo diamo a lei? No poi quella da consigliare Invece, per il corso, a Banser A Banser, quindi qui siamo a livelli altissimi A livelli profondi Paolo Pezzutti Stefano Catozzi Armando non lo vedo questa volta che è un stupo è anche un forte timoniere Armando Battaglia Ebbene, è stata una cosa molto spiacevole e speriamo proprio di riprodurla in futuro in maniera ancora più globale poi con l'aiuto e col concorso anche degli amici diversi io a questo punto ringrazio il comandante Seno di nuovo poi vorrei ringraziare Daniele Rivani per la disponibilità che dà per l'attrezzatura e i signori si cerchi ai cesti per il male video fotografico che hanno messo a disposizione ma non c'era anche una faccenda particolare sì, dobbiamo montarla a volo abbiamo bisogno di qualche minuto c'è un filmato che è stato girato poche ore fa dobbiamo montarlo al volo con Carlo se posso approfittare volevo ritornare sulle immagini iniziali che sono state girate due giorni fa nelle acque di fronte al Tino questa è una rete da posta lunga 100 metri circa che è stata rimossa dai sommozzatori del quinto nucleo sommozzatori di Genova della Guardia Costiera queste sono reti cosiddette fantasma sono reti che sono attive continuano a fare danni per cui c'è stata segnalata da un sub da un diving che in maniera molto dirigente ce l'ha indicata e noi nei giorni successivi abbiamo chiesto alla direzione marittima di Genova di inviarci il numero sommozzatori che è riuscito a individuarla e insomma a rimuoverne rimuoverne diverse quasi tutta o tutta insomma qui questa è anche un'attività a favore dell'ambiente che svolgono i nostri sommozzatori insomma di pregio abbastanza importante quindi volevo commentare queste immagini che sono andate all'inizio insomma per darvi conto di quello che è stato fatto e diciamo se mi consentite ancora la Miraglio Chionna che è il direttore del corso io volevo cuocere un omaggio e ringraziamo per le belle parole che ha rivolto che ci ha rivolto evidentemente insomma come dire siamo riusciti ad entrare in sintonia in amicizia assolutamente ed è questo lo stile che deve diciamo caratterizzare i rapporti tra la Capitaneria le associazioni e gli ufficiali che per tanti anni hanno vestito la divisa in servizio attivo e che comunque continuano con le loro attività a collaborare a quel concetto iniziale di cui ho parlato per la cultura del mare quindi complimenti e grazie a lei grazie grazie